Abbiamo organizzato grazie alla consulta e grazie al presidente del BIM di Nicola queste tre serate, venerdì sera quindi con il teatro, un tema importante che parla dell'inclusione, poi sabato abbiamo questi ragazzi che dipingono dei muri lì alla scuola di Castellalto, quindi i murales, con la sera uno spettacolo musicale e poi chiudiamo domenica con questo convegno, questa manifestazione importante con persone veramente importanti e sono sicuro che tutti i cittadini devono partecipare perché vale la pena, non è tutti i giorni incontrare personaggi del calibro di guidoni o di altri che fanno parte di questa serata. Questo evento è nato prima del covid, ha avuto una battuta di arresto, meglio se trasferita online per i due anni della pandemia e torniamo quest'anno dal vivo, torniamo a parlare di libri, a parlare di cultura, a parlare di arte. Quest'anno ci sarà un progetto molto spinto verso l'inclusione perché ci saranno tanti linguaggi, perché si parterà dai writers di sabato sera, della musica molto giovanile, molto piena di energia. Poi passeremo a domenica quando sul Belvedere di Castellalto ci sarà un convegno dedicato all'universo e al metaverso.